che settimana è stata e quanto è stato complicato tenere isolato la squadra da tutto quello che c'è stato fuori si gioca, non si gioca, porte aperte, porte chiuse è complicato come un po' tutte le altre squadre che sono dentro questo problema e quindi abbiamo preparato la settimana nella maniera giusta veniamo da una sconfitta pesante e vogliamo assolutamente vincere la partita contro una squadra sicuramente forte ma ripeto domani dobbiamo fare la partita perfetta il fatto che si giochi a porte chiuse mister dal punto di vista ambientale farà sì che cambino tanti aspetti sì, intanto voglio dire che sono decisioni prese dagli organi competenti e che noi ci dobbiamo adeguare quindi organi più importanti di noi sicuramente che ne sanno più di noi fermo restando che questo però porta ad una disparità rispetto a quelle che possono essere appunto la giornata che vivono anche le altre squadre purtroppo noi siamo inserite in quelle regioni che si deve giocare appunto a porte chiuse e questo è un problema soprattutto per il pubblico, per la gente che non può assistere quindi questo è un problema però ripeto ci adeguiamo a quelle che sono le ordinanze appunto degli organi competenti sarà un clima surreale sicuramente ma dobbiamo adattarci subito dobbiamo metterci subito la testa dentro la partita perché ripeto domani i tre punti sono fondamentali per noi sappiamo di giocare contro una squadra temibile ma assolutamente domani sarà una grandissima battaglia sportiva anche perché c'è il campo e arriva una squadra in salute che ha il secondo migliore attacco del campionato a noi interessa poco questo noi dobbiamo andare in campo domani e sapere che possiamo battere il Crotone se facciamo una grande partita dobbiamo fare una grande partita abbiamo le armi per poter giocare contro le grandi squadre l'abbiamo sempre dimostrato Benevento a parte è stata una partita così domani sarà dura sarà durissima sicuramente contro il Crotone ma sarà dura anche per loro quindi mi aspetto una grande partita da parte nostra c'è grande voglia grande voglia di rivalsa, di rivincita rispetto a quello che è successo la scorsa settimana e siamo pronti siamo prontissimi a dare battaglia a tutti quanti